Didi, vieni che guarda come ammazza il mister Non è buono? Via, via, via Lascia qui, dopo già Mamma mia, Black Mamba Day 2 a 1 Didi Ma com'è il gioco? Arrivò a 15 canesti 3 a 1 No, non c'è bisogno di nessuno, dai 4 a 1 No, 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 arrivò a 15 I got ice in my blood I got ice in my blood Ma non si fa così Mister, non si fa così Cos'è, con me No, no, no Ha tirato Paul, ha tirato Ha tirato A Paul, p***a Nooo Paul Ridi, mister, ridi 5 a 3 Uff, 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 uff Bello, bello Conto? 6 a 5 6 a 4 No, 6 a 5 Se la sentite io, lo fatti due Eh Guarda, guarda, ma hai distratto Pressione, pressione Pressione Quanto siamo? 7 a 7 Ce? Va, viene La macumba C'è la macumba Ehi, guarda, 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 guarda E io che ho fatto la macumba No, vai Ha detto che ho fatto la macumba C'era le mani sotto che ce le dava dal canestro Buono, 10-7 Arriva, arriva 10-8 No 10-9 Buono 10-10 No Ma non si fa così Si fa basket E questo è basket Non ho fatto niente No 11-10 No Adesso Adesso sta finendo Cominciano i nervi Adesso avviene la nervosità No Adesso vediamo chi ha più esperienza Guarda, guarda, guarda Dibala che gioca contro di me Guarda, guarda 13-11 Dentro Ehi, dentro, fuori 13-12 No Ehi, si mette uno E poi... Ehi, si mette... Ah, tiè, 13 14 Dammi la palla Dammi la palla Aspetta, no Non puoi Non puoi Oh, ferma Aspetta, pressione, pressione Tranquillo che non è vostro, non puoi messare l'esperienza Ah Nooo 14-11 15-12 Un po' No No Non sei... Ohhhhhhhhhh Che cuore Dai, 16 Dai, 16 Aspetta Andiamo a 20 No, no Dai, dai Vai Che culo 16 Vai, andiamo Grazie Paul Ma che grazie, andiamo a 20 Nooo, 15 Finito Grazie Paul Anche quest'anno ci ha dato Con il piede e con le mani Bah